Dal 1945 Fronius Solar Electronics SRL è impegnata nella ricerca di nuove tecnologie per la conversione dell'energia elettrica. L'azienda produce inverter ad alte prestazioni per impianti a energia solare collegati alla rete. Nel 2012 Fronius completerà la gamma della serie Fronius IG+. Fronius ha sviluppato il concetto mix che permette di avere inverter composti da più fonti di minor potenza con efficienza massima inferiore ma con una maggiore garanzia di guadagno. Negli inverter Fronius IG+, fino a tre moduli di potenza identici lavorano insieme. A seconda del loro livello di utilizzo, le fonti di energia possono lavorare simultaneamente o alternandosi. Grazie alla combinazione intelligente delle fonti di energia si ottimizza l'utilizzo e la resa è sempre a livello massimo. Ogni giorno si mette in funzione la fonte di energia con il minor numero di ore di funzionamento, così le singole fonti vengono utilizzate per lo stesso periodo di tempo e la durata della loro vita si allunga. Nel caso di guasto una delle fonti di energia, le altre continuerebbero a funzionare in maniera affidabile.